La scuola è la scuola, la scuola è la scuola. Quinta posizione, Cristina Caffei, Daniele, Vinicius, Berlina Ester. Quarta posizione, Alice, Biancavola, che è il conflitto di Londra. Terza posizione, Laura, Torno Perini, Alessandro, più bene, la faccia. Seconda posizione, Valentina Rossi, come osserva, il giugno, 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 il giugno. Quinta posizione, perciò, il giugno, 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 l'avrata, durante i variati, il giugno, il giugno.